Buona serata a tutti carissime famiglie, vi siete trovati per un momento di preghiera anche in piccoli gruppi. La preghiera del Rosario. Vorrei proporre due brevi riflessioni sul Rosario, ricordando che da una parte il Rosario è amato tantissimo da alcune persone e da altri, se non odiato, anche naturalmente tra i cristiani, sicuramente tenuto poco in considerazione. Due riflessioni. La prima mi viene in mente pensando al Cardinal Martini, che dopo la caduta del muro di Berlino, lui grande arcivescovo, cardinale di Milano, grande biblista, è stato invitato a una serie di incontri nell'ex Unione Sovietica. Tornando in un'intervista che aveva rilasciato, aveva detto questo, sono stato molto colpito dal sentire che la fede si è mantenuta per anni e anni di comunismo, che voleva zerare tutto grazie al Rosario. Una preghiera che ha continuato, le famiglie hanno continuato a fare. Un'altra esperienza è più personale. Sono diventato padrino di una ragazza albanese, ormai sposata, mamma di due figli, già anche grandini, e un giorno mi raccontava questo, che si ricorda che da bambina andava dalla nonna e quando si mettevano a letto per dormire sentiva che la nonna muoveva qualcosa sotto le coperte. Quando è venuto in Italia ha poi capito che era una corona del Rosario. Anche lì la fede si era conservata grazie al Rosario, anche un po' trasmessa grazie al Rosario. Ecco, il Rosario è una preghiera che ci riporta a Gesù. È una preghiera, come dice qui nel nostro parco, una scritta, è la vita di Gesù contemplata con gli occhi di Maria. Questa sera vorrei suggerire questa intenzione di preghiera, pregare per tutti quelli che non possono vivere liberamente la loro fede. Pregare per chi paga a caro prezzo la fede in Cristo. Ricordiamoli, portiamoli nella nostra preghiera. Buon incontro, buona preghiera.